Proseguono i lavori per il porticciolo qui di Francavilla al Mare, però servono altri fondi, perché? In verità questa cosa l'ho scritta su Facebook, è quasi una banalità, perché si sapeva dall'inizio che sarebbero corsi altri fondi per finire il porto, perché la gara d'appalto che noi abbiamo fatto grazie al finanziamento regionale di 2.250.000 euro prevede l'opera terminata con la predisposizione degli impianti, ma non con gli impianti stessi, con gli arredi, con la sistemazione a terra di una piazza importante e così via. Quindi questa è una cosa nota e risaputa. Ho semplicemente postato su Facebook come amo fare per parlare quotidianamente con i miei cittadini, dicendo signori stiamo arrivando alla fase 2, quindi fra qualche mese, io penso non più di un mese da oggi, un mese, un mese e mezzo, la ditta avrà terminato, l'appalto. Io l'ho messo come messaggio di gioia, positivo, qualcuno ha subito preso la palla al balzo e ha detto ecco mancano altri soldi, ma lo sapevamo dall'inizio, ci stiamo già adoperando per capire come completare l'opera e mi sono anche preso l'impegno pubblico di aprire il porto prima dell'estate 2018, cosa che era perfettamente nei miei programmi. Di quanti fondi necessita ancora il porto? Per portare l'opera completamente finita in ogni parte, quindi anche nella parte a terra, immagino che occorra una somma di poco superiore al milione di euro, un milione e due, un milione e tre, immagino. Per quanto riguarda il forum dell'acqua che poi ha fatto quell'intervento, diciamo critico, dicendo che i fondi servirebbero più per le bonifiche piuttosto che per il porto? Beh, intanto io non conosco ad oggi un intervento che non sia critico dal forum dell'acqua e mi interrogherei su questo perché il mio amico Augusto De Santis, fin ad ora, non gli ho sentito fare un intervento positivo. Detto questo, i soldi per la bonifica ci sono, l'alento a 5 milioni nel masterplan, io sto scrivendo più volte al governatore della regione affinché sblocchi questi fondi, quindi io sono il primo a voler la bonifica.